MySame, la app per il tuo trattore. Ricevi le promozioni a te dedicate direttamente dal tuo concessionario. Clicca qui per visualizzarle. Scorri l'elenco delle promozioni attive, verifica la data di validità e clicca per visualizzare la promozione. Scopri i dettagli della promozione. Le promozioni potranno essere di diversa tipologia, di carattere generale o dedicate specificatamente ai veicoli che hai registrato. Clicca Scopri di più per ulteriori dettagli. Se sei interessato alla promozione, clicca qui. Ricevi un QR code personale. Presentalo al tuo concessionario di fiducia per ottenere lo sconto. Facile, no? MySame, l'app pensata su misura per te.